Il calcio d'inizio è affidato a loro, a quattro giovanissimi arrivati dall'Ucraina poche settimane fa in fuga dalla loro terra a causa del conflitto. Così la Viktor Andria ha voluto dare il via al quadrangolare di calcio. Un gol per la pace tenuto allo stadio Sant'Angelo dei Ricchi con le società Bari, Avellino e Cantera Napoli. Un momento in cui i ragazzi, categoria giovanissimi, si sono riuniti per sfruttare lo strumento del calcio per uno scopo importante, lanciare il proprio messaggio di pace. E non c'era modo migliore se non partire così con il calcio d'inizio dei ragazzi ucraini. Lei e lui sono fratello e sorella che li ospito io a casa mia. Sono arrivati da un mese, però si trovano bene, però ovviamente vogliono tornare a casa perché ognuno vuole stare a casa sua, speriamo. Invece questo ragazzo è di un'altra famiglia che è arrivato con la mamma e sorellina piccola che adesso sta a casa. E lui invece sta con la mamma qui e stanno da un'altra parte, però diciamo adesso ci troviamo tutti qui. Da dove arrivano precisamente? Da che zona dell'Ucraina arriva? Praticamente lui arriva da Donbass, loro da Mecolayev e lui da Leopoli. Un piccolo momento di svago provando ad allontanare i pensieri più tristi che inevitabilmente vengono alla mente. La comunità andriese ha saputo accogliere questi ragazzi sin da subito e l'iniziativa della Victor ne è la conferma. Sono stati felici, molto felici di aver partecipato, però sono un po' tristi perché non possono giocare. Però sono stati contenti di poter giocare, di aver dato inizio alla partita. Giovani promotori di pace, concetto che la Victor Andrea ha voluto esprimere sin da subito. Il messaggio è proprio quello. Torniamo a far giocare i bambini, torniamo a fargli essere bambini, liberiamoli da tutti questi orrori, da queste cose bruttissime. Questo è un pensiero personale. È impossibile che nel 2022 ancora parliamo di guerre. Non è possibile. Le società giovanili di Bari a Villino e la cantera a Napoli hanno subito accolto l'invito della Victor Andrea, consapevoli che anche lo sport debba essere veicolo di messaggi positivi. La solidarietà è importantissima. Vanno sempre lanciati messaggi di pace, di distensione, di serenità. Noi che siamo nello sport dobbiamo veicolare messaggi di pace, di serenità, di distensione. Almeno iniziamo dai più piccoli, fargli capire che sono cose che non si devono fare e che purtroppo in questo momento bisogna aiutare chi ha più bisogno. Il Bari è molto attento a queste tematiche. Il Bari è una società che è attenta a queste tematiche e lo dimostra giorno per giorno. Nel nostro piccolo cerchiamo anche noi di dare e di fare qualcosa per far tornare la pace. Per tutte le persone che stanno soffrendo lì vediamo delle immagini veramente da brivido.